In Germania la polizia si occupa anche dell'autometico e non solo della sicurezza, un po' come accade in Italia con i vigili del fuoco che hanno questo aspetto duale ed un elevato training per questo. Quindi sono in grado di rispondere agli aspetti medici e dare contemporaneamente sicurezza ai civili presenti. La sicurezza dell'area in caso di attentato o comunque scena del crimine ha sempre la precedenza. Non c'è modo di sapere chi sono le persone presenti sulla scena o se sono coinvolte. Al caffè con Toir Voltaire, uno degli obiettivi terroristici a pochi meriti al teatro Bataclan, David, un infermiere di 46 anni, inizia la rianimazione cardiopulmonare, stava praticamente rianimando uno dei terroristi e stava toccando una bomba. È un vero dilemma per chi interviene. Chi interviene infatti vuole aiutare le persone ma si è obbligati per forza di cose prima di tutto a mettere in sicurezza la scena. Ricordiamo i tre step della sicurezza, self, scene e survivor, cioè la sicurezza personale, mettere in sicurezza alla scena, l'ambiente sicuro e solo in ultimo pensiamo alla sicurezza e a salvare i feriti. Quindi non lasciamo del crimine, la sicurezza e la messa in sicurezza della scena, dell'evento e delle prove ha la priorità sempre sulle vittime per diversi motivi. Un incidente stradale come lo affrontiamo oggi è molto distante dai eventi tipo la strage di Nizza in quanto l'evento specialmente all'inizio era difficile da identificare come un attentato terroristico. Basta vedere come è stato gestito in Italia l'evento di Sondrio dove un'auto è finito sulla folla o peggio Torino dove hanno utilizzato uno spray urticante per fare i furti causando ben 1500 feriti. Ricordiamo anche che i soccorritori sono spesso il vero bersaglio dei terroristi, è molto comune scenari esteri e non averci la dovuta confidenza e preparazione nel nostro paese può mettere a serio rischio la vita dei nostri soccorritori, agenti, vigili fuoco, personale delle ambulanze che siano. La situazione di un soccorso su scena del crimine o attentato terroristico è sempre altamente stressante e richiede una quotidiana formazione molto più intensa di quanto siamo abituati qui in Italia. Già l'elevata formazione degli altri stati fa fatica a formare adeguatamente chi deve salvare una vita o lavorare in uno scenario ad alto rischio. Immaginate la situazione in Italia. Quello che ci insegnano gli altri stati è che la soluzione è avere un soccorritore polivalente in grado di lavorare su una scena del crimine e fronteggiare in un evento terroristico e di poter fronteggiare attivamente una minaccia e rispondere a fuoco se necessario. Quello scenario terroristico è sicuramente un aspetto che andrebbe analizzato per poter portare professionisti capaci di lavorare in zona pericolosa già presenti sul territorio con elevate capacità sanitarie e che sono già polizia giudiziaria da affiancare alle forze di polizia per portare sicurezza e soccorso di qualità, evitando così di mandare i nostri soccorritori in eventi pericolosi dove attualmente rischierebbero sicuramente la vita.